La nostra associazione abbraccia un territorio limitrofo quindi noi per esigenza ci occupiamo di diverse abilità però la chiamata della dottoressa Di Pardo ci è sembrata urgente e ci è sembrato giusto partecipare a questa giornata stupenda dove oggi la cosa che mi ha colpito di più è proprio il fatto che si sono messi i ragazzi al centro di questa manifestazione e fare rete è la cosa più importante per noi è la mission dell'associazione oltre ad essere quella di accogliere i ragazzi presso il nostro centro di urno è proprio anche quella di uscire fuori e di partecipare a questi eventi per abbattergli gli stereotipi nella società per far capire alla società che partecipare a questi eventi che significa aiutare e dare un aiuto concreto alle famiglie noi siamo motivati dal bisogno e quindi siamo contenti che c'è questa grande partecipazione